Nel fine settimana c'erete alto in programma un appuntamento particolare. Esatto, ci sarà una serata basata sulla cucina, basata sulla cucina piemontese e quest'anno abbiamo deciso di chiamarla Boya Faust, che è un'esclamazione tipica piemontese e andiamo a ripercorrere praticamente il percorso che abbiamo iniziato anni fa con le varie serate a tema, quindi eravamo partiti dalla cucina messicana, poi siamo andati alla cucina argentina, l'anno scorso siamo passati in Toscana, cucina toscana, quest'anno ci siamo spostati più a nord e abbiamo deciso di basarci sul Piemonte sostanzialmente. Sarà una serata quindi con una cucina tipica appunto, basata sui primi, che saranno dei tortelli alla crema di tartufo, passeremo poi a dei secondi con brasato albarolo e costate di fassona alla griglia. Il tutto ovviamente per chi volesse sarà innaffiato da vino piemontese, come per esempio Barbera, Nebbiolo oppure Barolo. La serata inizierà alle ore 19, presso la tensostruttura Certe Alto, quindi anche in caso di maltempo non c'è nessun problema e alle ore 21 poi ci sarà un concerto da parte dei simpatici Tribute e Ubel Band che ci allietterà fino a tarda serata sostanzialmente. Poi l'estate continua con numerosi appuntamenti. Sì, diciamo che questo è uno dei primi appuntamenti per l'estate ceretese. Ci concederemo una pausa nella settimana a metà luglio, insomma, e poi dal 21 luglio ogni fine settimana sostanzialmente fino a dopo il ferragosto sarà interessato da vari eventi. Per esempio, diciamo, ci sarà la festa degli alpini a fine luglio, i primi di agosto ci saranno una cena sempre a base magari di pizzoccheri per arrivare poi nel clou, che è la settimana del ferragosto, dove avremo il 10 di agosto l'asta delle torte che ogni anno, praticamente sono diversi anni, che facciamo questa serata e devolviamo il ricavato ad associazioni bisognose del posto. Quest'anno abbiamo deciso di devolvere quello che sarà l'incasso all'associazione Insuperabili di Rovetta. Il 12 di agosto ci sarà la serata a base di pesce e l'immancabile supertombolata dove invito tutti a partecipare. Il 15 di agosto ci sarà il pranzo di ferragosto che riproponiamo l'edizione dello scorso anno che è andata a buon fine con un buffet, quindi un pranzo a buffet su prenotazione. E poi, diciamo, secondo me l'evento clou della stagione è il 17 di agosto dove ci sarà la serata finale del circuito Cornei Borghi con la gara Quarterpass su Esopero al Paese, corsa a piedi e la premiazione finale di questo circuito del 2018. Anche quest'anno abbiamo deciso di dedicare questa serata e tutto l'intero circuito al nostro compianto amico Danilo Fiorina. Quindi, riassumendo, dalla seconda metà di luglio siamo un punto di riferimento per i villeggianti e la gente del posto che vuole venire a trovarci. Ci siamo dati da fare per organizzare un'estate ancora completa. Abbiamo a disposizione un'ottima cucina, siamo con una tensostruttura disponibile quindi anche in caso di maltempo non c'è nessun problema e siamo lieti di alletarvi per tutta l'estate.